Ultima giornata di campionato per la terza categoria, vediamo direttamente i due gironi della delegazione di Catanzaro. Nel girone C vengono ammesse al campionato di seconda categoria direttamente il Marca e il Conflenti che hanno chiuso al primo posto a pari punti, a 48 punti. Molto probabilmente ci sarà lo spareggio tra queste due per definire chi sarà la squadra prima ufficialmente in classifica e quindi vicitrice del campionato e quale seconda, ma seconda che non dovrà fare assolutamente nessun playoff perché la quinta in classifica e Longobardi è a 37 punti, 11 punti di vantaggio e quindi sicuramente la sconfitta del spareggio tra Marca e Conflenti sarà di nuovo direttamente ammessa al campionato di seconda categoria e quindi non c'è questo playoff. L'unico playoff per la terza promozione, quella che dovrà definire la terza squadra, sarà tra Belvedere e Mach 3. Tutte e due le squadre hanno vinto i rispettivi confronti della giornata di oggi e però restano queste le posizioni. Terzo il Belvedere, quarto il Mach 3 e quindi nella prossima settimana vedremo quale delle due sarà a vincere lo scontro diretto per la terza promozione in seconda categoria.